Musica Turismo invernale, la Val Daveto spera nella stagione del rilancio. Aperta la campagna abbonamenti per gli impianti di risalita che neve permettendo dovrebbero aprire l'8 dicembre. Approvato a Rapallo il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori per rifare la copertura del torrente San Francesco. A fine gennaio scattano le modifiche alla viabilità. C'è anche quello degli allevamenti tra i settori colpiti dalla siccità. Attesa la risposta del Ministero dell'Ambiente sulla richiesta della regione di riconoscimento dello stato di calamità. Alunni a lezione di futuro con il Salone dello Studente di Cicagna. Ancora domani i ragazzi potranno conoscere gli istituti del territorio. Giovedì incontro con quattro aziende locali. Una vita spesa per amare. Il ricordo lasciato da Don Oreste Benzi nel decennale della sua scomparsa nella chiesa di San Bartolomeo in Promontorio a Genova a Santa Messa di Suffragio. Fioriscono iniziative a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tiguglio. Dopo il circolo a pescatori dilettanti di Chiavari, domenica si replica con lo stoccafisso della Proloco di Levi. Sono qui per completare il lavoro che avevo iniziato. Le prime dichiarazioni di Alfredo Aglietti è ritornato sulla panchina della Virtus Sentella. Da ieri il tecnico toscano guida la squadra bianco celeste. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio oggi. Dunque sono 30 i centimetri di neve caduti in queste ultime ore al Prato della Cipolla e sul Monte Bue a Santo Stefano d'Aveto. Il manto bianco ricopre le vette dell'Alta Valle ed è di buon auspicio per l'inizio della stagione turistica invernale che dopo il flop dello scorso anno ora spera nel rilancio. Gli impianti di risalita apriranno neve permettendo l'8 dicembre ma è già partita la campagna abbonamenti con prezzi ancora in questi ultimi giorni molto allettanti. Lo ski pass annuale inoltre sarà gratuito per chi la scorsa stagione ne ha acquistato uno ma di fatto non l'ha potuto utilizzare. Sentiamo. Sta per partire una nuova stagione sciistica per gli impianti della Val d'Aveto. La neve di queste ore fa ben sperare per una stagione che sicuramente dovrà essere migliore rispetto alla precedente. Beh è difficile che sia peggiore perché l'anno scorso non abbiamo mai aperto quegli sciatori quindi sì fa ben sperare. Noi un po' ci siamo attrezzati nel diritto del possibile e aspettiamo comunque che caso dal cielo. Aperti gli abbonamenti avete pensato anche una formula che incentivi l'acquisto anche a prezzi molto competitivi. Sì soprattutto abbiamo deciso di premiare chi ci ha dato fiducia l'anno scorso e per loro l'occupato stagionale visto che non ne hanno mai uscito unito è gratuito per quest'anno. Per gli altri invece abbiamo pensato ad un avvolgamento a prezzi stracciati per cercare di avvicinare i risultati possibili alla situazione. Chi vuole sciare in Val d'Aveto che cosa trova? Quali sono i servizi e gli impianti a disposizione? Ma abbiamo le due seggiovie più la sciovia della cipolla che utilizziamo come Campo Scuola. Quest'anno abbiamo anche acquistato un cannone sparaneve per rinnevare Campo Scuola Prato Bello. Avevamo messo un tappeto di risalita un paio d'anni fa e abbiamo ritoccato un pochino il terreno per rendere più dolci le piste ma poche cose e aspettiamo la neve. Tante iniziative, pensate anche per i più piccini, c'è un spazio anche per loro? Sì, stiamo pensando assieme al comune di creare delle giornate didattiche sulla neve, sperando nella neve. Per i fruttori della stazione anche nel periodo di dicembre vorremmo partire con i mercatini di Natale, speriamo di coinvolgere tanti bambini, di farli avvicinare alla neve e comunque alla montagna. Si aspetta la neve e la stagione quando aprirà ufficialmente? Puntiamo ad aprire l'8 dicembre, poi ogni weekend fino alle vacanze di Natale e successivamente vacanze di Natale ed ogni weekend fino a febbraio dove apriremo una settimana a fila. Torniamo adesso sulla costa. Scatta la fine del mese di gennaio invece la rivoluzione del traffico a Rapallo perché proprio alla fine del mese inizieranno i lavori per rifare la copertura del torrente San Francesco. Opera importantissima per la città, sia sotto il profilo del rischio idrogeologico che sotto il profilo della sicurezza che sarà però concomitante con i lavori per la posa delle tubature e del nuovo depuratore. Tutti i dettagli sulle modifiche al traffico e l'avanzamento dei cantieri saranno forniti alla popolazione nel corso di un incontro pubblico aperto a tutti. Sentiamo. Entrano nel vivo i lavori per la realizzazione della nuova copertura del torrente San Francesco a Rapallo. La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo per il primo stralcio del primo lotto che comporterà una spesa di oltre 2 milioni e 300 mila euro in parte finanziati dalla Regione per la somma di 1 milione e 645 mila euro e in parte per 705 mila euro stanziati dal Comune stesso. Ora dunque potrà essere bandita la gara d'appalto con procedura d'urgenza in quanto l'opera è considerata strategica perché il suo traguardo finale è la messa in sicurezza della Via Aurelia. L'opera nel suo complesso prevede infatti la messa in sicurezza sotto il profilo del rischio idrogeologico e sotto il profilo statico perché comporta il rifacimento della copertura che oggi non garantisce condizioni di sicurezza. Per questa ragione in attesa dell'apertura del cantiere la viabilità è già stata modificata da diversi mesi. Il primo stralcio dei lavori dovrà essere avviato entro i primi mesi del 2018 e concludersi entro la fine dell'anno. Sarà demolita la prima parte della copertura partendo dal mare fino a poco dopo il passaggio pedonale. La demolizione comporterà la contestuale ricostruzione in sicurezza. Da qui poi si procederà alla demolizione dei tratti successivi fino al ponte della ferrovia e fino alla conclusione di tutto il primo lotto dei lavori. Chiaramente il problema maggiore sarà quello della viabilità perché nel frattempo sul lungomare di Rapallo sono iniziati i lavori per la posa delle tubature del nuovo depuratore. Per fare chiarezza, spiegare ogni dettaglio ai cittadini e rispondere a tutte le domande mercoledì 15 novembre alle 20.45 all'auditorium delle Clarisse ci sarà un convegno che vedrà oltre al sindaco di Rapallo anche il presidente della regione Giovanni Toti di confrontarsi con il pubblico assieme ai tecnici che si stanno occupando delle varie procedure aperte. Il convegno sarà trasmesso in diretta da Telepace. La viabilità sarà comunque modificata in due tempi successivi. Per i primi cinque mesi di lavori sarà chiuso il lungomare ragion per cui si potrà accedere a via Montebello solo da Corso a Sereto e via Militegnoto. Nella fase successiva, dopo i primi cinque mesi, sarà chiusa via Militegnoto per cui per andare in via Montebello si potrà passare solo dal lungomare. E la cronaca a Rapallo. Una persona di circa 60 anni è stata investita questo pomeriggio da un'auto in via Mamedi. Sul posto sono intervenute l'automedica del 118 e un'ambulanza dei volontari del soccorso. Fortunatamente per l'investito le conseguenze non sono risultate gravi. In codice giallo è stato trasferito al pronto soccorso di Lavagna. E sempre a Rapallo sarà Alessandra Ferrara, assessore al bilancio del Comune, a seguire per conto dell'amministrazione rapallese la delicata fusione tra AMT e ATP. Il sindaco Carlo Bagnasco le ha conferito infatti anche le deleghe a trasporti e aziende e partecipazioni comunali, oltre quelle a bilancio, programmazione economica, politiche finanziarie e patrimonio. Notizia che troviamo anche sul nostro sito teleradiopace.com. Il sindaco ha firmato ieri l'integrazione dell'atto di nomina. Si tratta, ha spiegato Bagnasco, di una professionista attenta e competente che potrà garantire la massima attenzione per le esigenze degli utenti in un momento particolarmente delicato per il trasporto pubblico. Ferrara già questa sera prende parte del primo incontro convocato dalla città metropolitana di Genova per affrontare l'argomento. Via libera dalla giunta regionale ai lavori di riqualificazione della Casa della Salute e dell'ex ospedale Sant'Antonio a Recco nelle due strutture saranno trasferiti i servizi sanitari territoriali. L'ASD3 potrà così contare un mutuo per effettuare l'intervento per una spesa di 310 mila euro senza oneri aggiuntivi a carico della Regione. Un passo avanti per il rilancio di una sanità sempre più vicina ai bisogni di salute dei cittadini è il commento della vicepresidente regionale Sonia Viale. Il servizio biglietteria di sei stazioni ferroviarie della Liguria rischia di essere chiuso o cambiato. Tra queste c'è quella di Recco dove Trenitalia prevede la rimodulazione dell'orario spezzato. Il tema è stato affrontato oggi in Consiglio regionale. Rispondendo ad una interrogazione del Movimento 5 Stelle, l'assessore ai trasporti Gianni Berrino ha spiegato che nella trattativa ancora in corso con Trenitalia sarà avviato un ragionamento sulla futura apertura delle biglietterie ma ha precisato sicuramente non potremmo mettere risorse in più a tal fine. È quello dell'allevamento di bestiame, uno dei settori maggiormente colpiti dal periodo di grave siccità che ha interessato il nostro territorio negli ultimi mesi. Per questo si attende con ansia il risponso da parte del Ministero dell'Agricoltura alla richiesta della Regione Liguria di riconoscere lo stato di calamità naturale. Da lunedì intanto anche a Chiavari aprirà uno sportello dell'Unione Generale Coltivatori, sindacato, riferimento alla CISD, a sostegno del comparto e che nello spezzino dà assistenza ad oltre 650 aziende agricole e a molti iscritti anche nel Tiguglio. Sentiamo. Il periodo di siccità che si è prolungato per tantissimo tempo ha creato dei grossi problemi soprattutto negli allevamenti di bestiame perché a parte il foraggio che non ha avuto il quantitativo degli anni precedenti e quindi è stato molto più scarso quindi l'approvvigionamento invernale è stato di quantità inferiore. Però anche quando poi le bestie una volta del taglio del fieno sono stati portati al pascolo il problema qual è stato? Che questi pascoli erano completamente aridi e quindi gli allevatori hanno dovuto per forza di cosa già utilizzare del fieno che avevano messo da parte per l'inverno ma soprattutto andare ad acquistare altro fieno per poterlo portare nei pascoli per poter dare a mangiare a questi animali. In queste ore la Regione ha avanzato al Ministero la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità a proposito di questa situazione a questo punto si attende che il Ministero si pronunci e dopodiché che cosa dovranno fare gli agricoltori per avere comunque supporto? L'allevatore o l'azienda agricola verranno da noi presso le associazioni di categoria dove compileremo della modulistica che comunque la Regione ci dirà in che modo e quale sarà la documentazione integrativa da inserire. Da più parti sono state avanzate le richieste e sono state accolte e apre anche nel Tiguglio a Chiavari un punto di riferimento per l'UGCCISD. Dove sarà e quali le modalità operative? Sì, dalle numerose richieste delle svariate aziende che abbiamo in Val Daveto, anche Val Petronio nel Tiguglio abbiamo deciso insieme al Presidente Daniele Ammenini di aprire uno sportello qua a Chiavari in via Vinella nella sede della CISL lunedì della settimana dalle 8.30 alle 12.30. Ovviamente inizialmente useremo solo lunedì la mattinata del lunedì se però sperando che le richieste aumentino si potrà anche ampliare le giornate durante la settimana. Da due mesi l'asilo comunale di Corso Buenos Aires a Chiavari è privo di acqua calda lo denunciano i gruppi di minoranza noi di Chiavari, Chiavari sempre al centro che sul tema hanno presentato un'interrogazione i consiglieri Levaggi, Colombo, Silvia e Sandro Garibaldi affermano di aver ricevuto numerose lamentele sia dai genitori sia dal personale e chiedono all'amministrazione quando si intenda porre rimedio visto il calo delle temperature. I responsabili della Super Eco l'azienda che a Calavagna ha in gestione l'appalto per la raccolta dei rifiuti rispondono in merito alla denuncia sollevata di recenti dai sindacati Cislewil del Tiguglio sulle condizioni precarie in cui si troverebbero ad operare i lavoratori dell'azienda. Il punto in questione è la mancanza di spogliatoio e acqua corrente nell'area di Caperana a Chiavari dove attualmente vengono ricoverati i mezzi. La Super Eco spiega che l'area di Caperana è una soluzione temporanea e che manca di servizi in quanto è un semplice parcheggio. All'inizio del nostro lavoro non abbiamo trovato grandi disponibilità commenta Ciro Piro presidente della società ora stiamo cercando una soluzione nel territorio comunale di Lavagna in queste ore stiamo valutando a concluso alcuni terreni che ci sono stati proposti. Andiamo adesso in Val Fontana Buona ha preso il via a Cicagna il salone dello studente l'obiettivo è di allargare l'orizzonte degli alunni e finalizzare il loro cammino al mondo del lavoro. Oggi al palazzetto Poliuso erano presenti le scuole dell'Ettiguglio ma vediamo anche altri appuntamenti. Come prosegue il salone? Prosegue anche domani pomeriggio dove ci saranno invece le scuole di Genova siccome la Fontana Buona i ragazzi di Gattorna molti preferiscono andare a Genova più vicino a Genova allora possono anche lì scegliere una varietà di scuole che si trovano a Genova. E poi c'è un incontro giovedì 9 novembre aperto a tutti al mattino dalle 10 alle 12 sempre qui al palazzetto di Cicagna di cosa si parlerà? L'idea è proprio quella di iniziare un po' un rapporto col mondo del lavoro capire la scuola e il mondo del lavoro quindi come aiutare i ragazzi a prepararsi come anche per aiutarli a impostare il loro percorso didattico ed educativo negli anni futuri anche per capire dove poter indirizzare le loro energie Quindi che avete invitato? Abbiamo invitato l'amministratore delegato della Serie Studio della Mangini Ardesie e poi abbiamo invitato l'amministratore delegato della 3DB e poi un ristoratore che è la Inosteria di Calvari Sarà possibile fare le loro domande? Sì, i ragazzi potranno fare domande proprio per all'interno ci sarà anche una mostra con tutti i dati sul lavoro dove verrà spiegato che cosa è la disoccupazione che cosa è l'occupazione i vari dati sul lavoro esempio femminile il lavoro minorile eccetera E sempre in tema di formazione Arinox, l'azienda di Liva Trigoso ha ottenuto il bollino per l'alternanza di qualità anno 2018 Confindustria valorizza così l'impegno delle imprese nella formazione delle nuove generazioni attraverso questo riconoscimento che premia quelle imprese che si distinguono per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di elevata qualità attivando collaborazioni virtuose con scuole secondarie di secondo grado e centri di formazione professionale L'edicola Mariana posta sul torrente Gromolo a Sestre Levante sarà oggetto di un accurato intervento di restauro conservativo e messa in sicurezza La Giunta Comunale di Sestri ha approvato la convenzione con la parrocchia di Santo Stefano del Ponte che consentirà di procedere celermente ai lavori necessari L'edicola datata 1579 dedicata alla Beata Vergine del Carmelo e il Ponte Romano che rivestono un valore storico e religioso per la cittadinanza necessitano di un intervento di consolidamento statico e di restauro conservativo Nello specifico la parrocchia si farà carico della progettazione e della direzione dei lavori per il restauro il che comporterà anche il risanamento del parapetto del ponte di proprietà comunale La parrocchia metterà a disposizione 20.000 euro Il comune di Sestre elargerà un contributo di altri 26.000 euro La soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio ha da poco autorizzato l'intervento e a breve si procederà con l'avvio dei lavori Parliamo adesso di Don Oreste Benzi un sacerdote secondo il cuore di Dio così lo ha ricordato Monsignor Marino Poggi che ha presieduto a Genova una santa messa in suffraggio del prete riminese nel decennale della sua scomparsa La celebrazione è stata organizzata dai componenti della comunità Papa Giovanni XXIII presenti anche in Liguria con diverse case famiglie Sentiamo Ho capito che mio papà apparteneva a quella grande fascia immensa di gente che crede talmente di non valere nulla che quasi chiede scusa di esistere E' lì che è nato in me forte forte il desiderio di stare sempre con quelli che credono talmente di non valere nulla che quasi chiedono scusa di esistere Una vita spesa per amare quella di Don Oreste Benzi fondatore della comunità che porta il nome di un altro santo al quale è stata attribuita la definizione di Papa Buono Giovanni XXIII dall'infanzia felice nelle campagne della pianura padana sino agli incontri con le ragazze di strada salvate dalla schiavitù della prostituzione a ricordarlo dieci anni dopo la partenza per il paradiso sono proprio i componenti della comunità che a Genova si sono riuniti nella parrocchia di San Bartolomeo in Promontori a San Pierdarena per una santa messa di suffragio presieduta da Monsignor Marino Poggi tante le persone che si sono radunate nel ricordo di Don Oreste un sacerdote secondo il cuore di Dio ha sottolineato Monsignor Poggi il compito di chi serve non è di sostituire gli altri ma di animare gli altri a servire quando Don Oreste parlava lo si ascoltava come un angelo che parla dell'amore di Dio ha aggiunto Monsignor Poggi non era il più simpatico diceva delle cose vere e chi ascoltava era convinto dalla verità non da lui lui aveva un suo carisma la sua capacità di trasmettere ma quello che diceva valeva perché era parola di Dio Don Oreste Benzi ha camminato per 40 anni al fianco degli ultimi in tutta Italia nei cinque continenti ha aperto centinaia di case famiglie ha lottato contro l'avorto ha promosso missione nei paesi poveri negli ultimi anni lo si incontrava lungo le vie buie della prostituzione per chiedere alle donne che si prostituivano ami Gesù a loro proponeva sempre la liberazione immediata una nuova speranza andiamo adesso a leggere una notizia sul sito di Avvenire perché si è conclusa la fase romana del processo di canonizzazione di Papa Luciani che sarà venerabile arriva al sì della congregazione dei Santi la sessione dei cardinali e vescovi ha dato infatti il voto positivo unanime per il riconoscimento delle virtù eroiche di Giovanni Paolo I atteso giovedì adesso il via libera di Papa Francesco al decreto parliamo adesso di gioco d'azzardo arrivare alla stesura di una proposta di legge condivisa sul gioco e il contrasto alle ludopatie entro il mese di febbraio così da presentarla al Consiglio regionale della Liguria per l'esame nelle commissioni arrivando al voto dell'aula entro il mese di maggio è l'obiettivo individuato al termine della riunione della regione con i rappresentanti sia delle associazioni di categoria del commercio sia quelle impegnate nel contrasto alle ludopatie durante l'incontro è stata sottolineata l'importanza dell'intesa raggiunta in conferenza delle regioni sulla proposta di legge presentata dal sottosegretario all'economia Pier Paolo Barretta che costituisce il testo guida per la futura normativa regionale il confronto a livello territoriale coinvolgerà fin da subito anche il Cal e l'Anci Liguria in rappresentanza dei sindaci la cui autonomia va comunque garantita in particolare sul tema delle distanze delle sale gioco per quanto riguarda il contrasto alle ludopatie nel corso dell'incontro è stato ricordato che Regione Liguria ha già predisposto un piano di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione oltre ad una serie di progetti elaborati dalle ASL pronti a partire non appena il governo avrà sanato il vizio procedurale oggetto della sentenza con cui il Tar del Lazio ha bloccato i finanziamenti nazionali destinati alle regioni il Tiguglio si mobilita per la sanità locale lo fa con piccole ma significative iniziative e a volte a sostenere l'operato del comitato assistenza malati Tiguglio nelle scorse settimane il circolo pescatore direttante di Chiavari ha radunato molte persone con un pranzo nella sede di piazza San Giovanni Paolo II a Chiavari questa sera un ampio servizio in si può dare di più ma ne vediamo un'anticipazione tutti gli anni c'è questo appuntamento fondamentale per noi e soprattutto anche per dare una mano qui nel Tiguglio e ci si avvale soprattutto dell'aiuto di tutti i soci una parte storica dei soci che poi siamo amici con cui condividiamo l'interesse e la voglia di fare questo anche se gli anni passano sempre alla buona volontà e cerchiamo di portare avanti qualcosa di utile per il nostro territorio c'è sempre un bel gruppo di amici che sostengono questo pranzo sì sempre ci aiutano partecipano chi non viene fa un'offerta insomma è una cosa bellissima vuol dire che insomma sia una cosa giusta no? assolutamente la cucina è più femminile o maschile? direi più femminile femminile perché le femmine in cucina secondo me hanno un tocco in più e oggi di buono cosa avete fatto? abbiamo fatto lo stoccafisso abbiamo fatto le frittelle di baccalà poi abbiamo dato il dolce adesso diamo l'uva fagiolano e patate oggi è andata benissimo il tempo ci ha aiutato e spero che di essere sempre in gamba e andare avanti un altro anno di fare la cosa e via ecco quanti iscritti siete come circolo? circolo tra sportive e sostenitori siamo sui 240 236 soci siamo ecco io vorrei raccomandare un po' a tutte le persone che ci ascoltino che si interessino un po' più di sanità qui nel Tiguglio c'è qualcosa che sta scricchiolando non vorrei che ci fosse un progetto per restringere per far dimagrire questa nostra sanità e per portare a Genova specialità quindi bisogna io raccomando le persone che veglino e che facciano pressione sui loro sindaci e sulle persone che contano perché qui abbiamo una discreta sanità e bisogna che ce la conserviamo lo speciale dunque si può dare di più dedicato all'iniziativa questa sera su Telepace 1 al canale 15 a partire dalle 21 e 10 ma domenica prossima si replica per quanto riguarda il sostegno al comitato o anche a Levi nei locali sottostanti l'asilo in località San Bartolomeo i volontari della Proloco invitano amici simpatizzanti a partecipare al pranzo che avrà come piatto forte lo stoccafisso anche in questo caso al menù prelibato si abbina la raccolta fondi per il comitato assistenza malati Tiguglio chi desiderasse partecipare deve prenotarsi sia i numeri del comitato allo 0185 39 35 10 o 0185 39 34 70 Rapallo celebra in questi giorni il centenario del convegno interalleato che si tenne il 6 e 7 novembre del 1917 in quello che è oggi l'Excelsior Palace Hotel fu un summit strategico organizzato nel momento più buio per l'Italia durante la prima guerra mondiale Raffallo fu protagonista di altri due fatti storici il trattato del 12 novembre 1920 e quello del 16 aprile 1922 per ricordare i tre eventi e per tramandarli ai più giovani il comune sosterà la ristampa di un volume scritto da Pier Luigi Benatti ed Emilio Carta l'opuscolo stampato in 3.000 copie verrà distribuito a breve agli alunni delle scuole rappallesi l'iniziativa è promossa dall'associazione culturale Carugio Dritto adesso nella nostra scheda gli appuntamenti in agenda per domani vediamo Appuntamenti in agenda per mercoledì 8 novembre è aperto alle visite il Museo Dio Cesano al primo piano della Curia Vescovile in piazza Nostra Signora dell'Orto 7 a Chiavari le opere saranno visitabili dalle 10 alle 12 riprendono i pomeriggi insieme organizzati dalle comunità parrocchiali di Santa Margherita Ligure alle 15 nelle opere parrocchiali dietro la basilica di Santa Margherita ci sarà la proiezione del film Il diritto di contare al termine merenda per tutti i partecipanti dalle 15 alle 17 dimostrazione e prova gratuita di macramé l'antica arte di creare preziosi pizzi alla Circo Loacli Fanine di Via Vinelli a Chiavari proseguono i corsi di cultura di Chiavari alle 16 nella sala livellara di Via del Pino Silvana Rigobello parlerà di letteratura leggendo brani del romanzo Guerra e Pace di Tolstoi incontro con padre Attilio Fabris per il calendario delle lezioni dell'Accademia Culturale di Rapallo il religioso parlerà sul tema parola e verità l'appuntamento è alle 16 a Villa Queirolo Apriamo adesso la pagina dello sport sono tornato perché qua ho incontrato delle persone che mi hanno dato fiducia quest'anno rispetto agli altri anni secondo me la squadra è più forte sono le parole in salla stampa per Alfredo Aglietti nuovo allenatore della Virtus Sentella da ieri infatti ha preso in mano la squadra dopo l'esonero di Giampaolo Castorina sono qui per completare il lavoro che avevo già iniziato si è presentato così alla stampa mister Alfredo Aglietti il nuovo allenatore della Virtus Sentella da ieri il tecnico toscano è alla guida della squadra Bianco Celeste e dopo i primi contatti con i suoi giocatori e gli allenamenti è sicuro di avere a disposizione un gruppo molto forte con il quale è sicuro di fare bene ho la sensazione che potremo fare davvero bene poi questo chiaramente toccherà a noi dovremo avere perché comunque l'ambiente di Chiavoli è un ambiente straordinario però è normale che non sono altri ambienti in cui magari hai 30.000 persone allo stadio quindi sotto questo aspetto qua dovremo essere bravi ad avere una nostra mentalità ad avere un nostro modo proprio di attaccare le partite però quello che mi aspetto chiaramente è di avere la massima disponibilità da parte di tutti i calciatori ma già oggi, già ieri ho capito che hanno voglia anche loro di fare un campionato di un certo livello Una chiamata che non è stata proprio un fulmine a ciel sereno per Aglietti il 47enne tecnico toscano che ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2018 era svincolato dopo non aver dato seguito al suo impegno precedente con l'Ascoli tuttavia il suo ritorno riacchiude diverse coincidenze che lasciano pensare Avellino fu anche la tua prima trasferta nella tua prima avventura ad Entel È vero Sì, perché la prima la giocammo in casa con il Vercelli e la prova e poi andammo a Avellino Corsi e ricorsi No, ma è curiosa questa cosa davvero perché io avevo il telefono che dovevo cambiare non lo portavo mai perché me lo dovevano tenere mezza giornata avevo paura che ci potesse essere una telefonata puntualmente è arrivata quando era lì il telefono Mio fratello un'altra cosa mi ha detto gli avevo regalato una tuta di lentella mi ha detto non me la metto mai ho stata tutta oggi avevo la tuta di lentella e non sono sto dicendo la verità quindi non lo so era destino si vede Aglietti prende il posto di Giampaolo Castorina anche a lui è andato il pensiero del nuovo allenatore bianco celeste La scelta sicuramente è stata dolorosa me lo immagino perché poi mandare via un allenatore non è mai semplice quando è un allenatore che tu hai cresciuto all'interno della tua squadra della tua società per così tanti anni è ancora più dolorosa però sappiamo che questo è il nostro mestiere certe scelte non dipendono da noi noi dobbiamo solo lavorare sul campo e su questo ci dobbiamo concentrare Tirino Power sta realizzando una cabina elettrica borzonasca lungo la provinciale 586 la città metropolitana di Genova ha autorizzato pertanto l'istituzione di un senso unico alternato in prossimità dei cantieri che sarà attivo quando le esigenze dei lavori lo richiederanno il provvedimento sarà valido fino al prossimo 15 gennaio in caso di previsioni di nevicate o di allerta meteo rossa il senso unico alternato non potrà essere attivato con questa notizia di servizio si conclude questa lezione di Tiguglio oggi l'informazione torna domani mattina alle 7.30 con il buongiorno di Teleradio Pace insieme a Marco Revello alle 12.45 con la prima edizione del TG13 tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata grazie per la visione di TG13